mio figlio mi aveva donato l'autostima io mi voglio bene io mi voglio bene che significa ce la posso fare non dovevo sviluppare il mio io, il mio essere rivoluzionario dovevo semplicemente decidere che tipo di rivoluzione volevo perseguire tra il secondo e il terzo ricovero però ho presenziato al raduno a Washington D.C. di Martin Luther King I have a dream, ho un sogno e subito mi resi conto di aver trovato la mia tribù rivoluzionari non violenti che bella parola, rivoluzione la violenza ha dato alla parola rivoluzione una connotazione negativa in verità la maggior parte delle rivoluzioni sono state rivoluzioni non violette so grazie a tutti